Un jeans al prezzo di uno strofinaccio non può che entrare di diritto nella categoria risparmia facendo bella figura, o come si dice dalle mie parti, sparagni e comparisce. Tutto merito del bengalese che li ha sapientemente prodotti e che riesce a sopravvivere con meno di 50 euro al mese. D'altronde, ipotizzando che l'unico a guadagnarci sia il bengalese e che arrivi a tirar su 1299 euro al mese netti, producendone 100, i 12,99 euro sborsati per il paio di jeans sarebbero di certo il giusto prezzo, ma la giustizia è per le chiacchiere, non per smerciare prodotti civetta. Pensare che l'effetto invecchiato sia lo stesso fatto su capi di marchi ben più noti, pubblicizzati e costosi è verosimile, ma a volte capita che siano dovuti alle macerie di qualche fabbrica improvvisata e malauguratamente crollata. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!